Li stiamo vedendo in azione proprio in questi giorni nel mare e sulle spiagge di Ischia. Gli agenti di polizia della squadra nautica che insieme alle squadre di terra stanno portando avanti l'operazione State Sicura con controlli a tappeto sull'isola per contrastare la criminalità, le presenze indesiderate e per garantire la massima vivibilità del territorio. E ne stiamo apprezzando il valore, ma forse l'anno prossimo non ci saranno più, almeno stando a quanto si legge in una nota del segretario generale COISP Napoli, Giulio Catuogno, che ne annuncia la chiusura per effetto della legge Madia. Italia, una terra circondata per tre lati dal mare, senza più la squadra nautica della polizia di Stato, scrive Catuogno. Lo si legge tra gli articoli della riforma della pubblica amministrazione. Le nostre coste e frontiere sud della fortezza europea non avranno una forza di polizia che controlli la sicurezza e l'ordine. Lasciate dunque in balia del caso in nome delle riduzioni economiche. Pensare al porto di Napoli, caratterizzato da un importantissimo volume di traffico passeggeri e merci. Oppure pensare alla riduzione SAR e alla scomparsa del supporto garantito sinora alle strutture turistiche o ai commissariati di pubblica sicurezza di Ischia e Capri senza l'ausilio della squadra nautica della polizia di Stato è impossibile. Non bisogna poi dimenticare, conclude il segretario generale COISP, che il nostro specchio di mare d'estate vede un fitto navigare di yacht e superyotte, di sceicchi e magnati che percorrono le rutte tra Napoli, Capri, Amalfi, Positano, Ischia e altre isole, natanti che vanno non solo scortati ma anche controllati.